inizia ok seguite questo filmato lascia il filmato forse ha ragione dico forse buongiorno devo sconfiggere il nemesis è il nemesis corri scappaci al nemesis e io ho bisogno di riavere questo esperimento ci pensiamo noi no hai detto ok accetto pure io insomma dovrò fare un sacco di cose ok dicevo inizia il primo livello di raccette clank a fuoco volontà allora facciamo un po' di cose che mi sono dimenticato ti dirò un po' di cose che mi sono dimenticato sono andato a roma ho visto il papa di persona e vabbè fa niente lo saluto anche se lui non stare guardando mica i miei video non lo so se ho fuso dentro vabbè e saluto e saluto oltretutto qualcuno che che guarda i miei video non è il signore oltre a saltare persone che sicuramente non guardano i miei video saluto aliaso selina che ha fatto un b la prima parte di ha fatto il primo livello vabbè iniziamo con una stupidata inizia prima ho fatto un errore maldornale e non ci provare a colpirmi hai capito il video ecco 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 come si fa eh no ti prego controllare la telecamera usa la levetta analogica destra ok combo doppio abbattimento doppio abbattimento ecco ah 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 tolterrotto il letargo eh eh si continuiamo a dire un sacco di stupidate un robot che va in letargo si vede che è un mio che sono fuso del sono fumato dentro come dico io se come dico sempre meglio fumati dentro che fumati fuori non so che cosa significa veramente questo termine ma fa niente e non importa nessuno credo che tra poco i miei guardi avranno parecchio lavoro eh no 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 aspetta un momento io sono qui solo per riparare la bobina del deviatore di flusso ottima scusa porta i miei saluti alla megacorto guardi finiti eh no eh no eh no ti dobbiamo ma tanto lo sanno che morano che poi il bel che il dirai lato poteva spar Che poi in teoria l'altro poteva semplicemente sparare a raccetta e finiva tutto lì Perché mi sembrava una cosa molto sensata Cioè, gli puntava una pistola e non gli ha sparato, mi sembra irrazionale Non gli poteva sparare direttamente Continuo a chiedermi questo fatto Ah, Torless, se non è rotto, lo rompiamo noi Perfetto, io stavo proprio cercando degli agenti speciali E porta il denaro e noi facciamo il lavoro Bene, incontrerò i suoi uomini migliori a queste cordine Hai acquisito Nanotech, la tua salute è migliorata Eh, lo so Sono più forte di Chuck Norris So che per questa bestemmia mi chiuderanno il canale Non so perché ho detto per questa bestemmia Perché ho detto che sono più forti di Chuck Norris Chuck Norris Chuck Norris cane Chuck Norris cane No, basta Ok, basta il bestemmiare contro Chuck Norris Perché se no Chuck Norris mi uccide Lo so già che mi ucciderà Chuck Norris verrà a casa mia e mi ucciderà E... Vabbè, fa niente Scrivo le mie memorie Mi vogliono notegliare la testa Mi vogliono strappare le budelle Lei cap längero ora Abia Ah... Non so Spirito Mi, tu Ma, tu E Aku Mi, tu Mi, tu Mi, tu Mi, tu torneranno mai allora in quel livello non si può più tornare il dadro è scappato con l'esperimento e non ho idea di dove si sia diretto niente paura, ho appena ricevuto una comunicazione che potrebbe esserci utile hai per caso delle mappe di questo quadrante della classica? certo signore, ne abbiamo un sacco mappe 3d, modellini, mappe delle stelle e di tutte le loro case mi dispiace ah, ho dimenticato il mio portafoglio potresti, si insomma, potresti pensarci tu difesa dell'idra, disegnete scusi, ha dimenticato il resto che becille per visualizzare la mappa premi il tasto select o il tasto r3 non posso comprare niente sono morto di fame addio lucciole 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 geneticamente modificate Doppia uccisione! Ok. Nell'acido! Nell'acido! Addio! Premi il tasto triangolo per interrompere i messaggi, metti in pausa. Grazie per l'informazione, ora posso interrompere i tuoi stupidi messaggi. Contro i nemici più forti, le armi sono più efficaci della tua chiave. Eh lo so ma, potevo interrompere il suo messaggio e non fargli parlare. Boss! Gli sto sparando all'occhio! Esa! Secondo te se spari a un occhio a una persona, la persona muore? Può essere. Mi ha ucciso! Aia, mi ha fatto male! E' vero? Non posso far così? Aia! Mi ha fatto male! Ma io ho detto di utilizzare questi cosi! Oddio! Dopo le nonostrulu pol Balplotico, penne! Costume! Se spari? Beh, non posso... Mi sta uccisendo! Mi ha ucciso! Per spustarti lateralmente puoi tenere premuti i tasti L2 o R2 mentre cor Coloro... Ah! Mi ha fatto male! Muori E ora muori Prendiamo le munizioni Spacca il coso Spacca il coso Ok ho trovato un coso Ora lo posso usare per masturbarmi Prendi il tasto cerchio per prendere di mira quell'enticatore con il generatore Ma va quel paese La voce di questo qui è simpatica Spacca la voce di questo qui è simpatica Nooo No no ti prendo Ok Muoviti Magliette e scarpe Magliette e scarpe Ma questa informazione è scontata Mica uno va nudo Aspetta mi sa che avrà detto vendiamo scarpe Abiti e scarpe Eh si Magliette e pantaloni Va bene me ne posso sbattere altamente di quello che ha detto Anche perchè Quello che l'ha detto è morto Non commenti Noo che Grazie per aver scelto un megacorpe Nooo Muoviti Grazie no ha fatto male ok evitiamo di saltare con il salto da prima elementare ok ecco qui non si può passare perchè servono le scarpe le scarpe magnetiche ok qui bisogna correre ok sì ah oh ok ok Che Megacorp sta per portare a casa tua gladiatori galattici ed sarà un evento veramente speciale! Prima vedremo combattere i nostri eroi nella biocompetizione. Il medico Chainblade, Chainblade, scatenerà tutta la sua violenza contro i gladiatori sfidanti. Chainblade è il campione imbattuto da 500 incontri, ma se la biodivisione non vi piace, apprezzerete la divisione robotica. Attenti all'adrenalina perché vedrete una sfida contro il mostro a quattro braccia, il V2 Grohler! Brawler! Brawler! Nessuno può competere con questa macchina! Ammirerete 6 tonnellate di Lega Carbonox a caccia! Non c'è premio di consolazione! Il mostro è programmato per non avere pietà! Allora cosa state... Già notare che lui ha un cervello sul robot! Chainblade B2 Brawler! E mi raccomando, nascondete le porcellare! Gladiatori galattici, solo su Megaview! Chiamate il fornitore! Ok! Chainblade, eh? Ho già le coordinate! Passo e chiudo! Però... Però finisci oltre il primo livello di reaccettare il fuoco a volontà! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.